Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia. Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che in verità scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Da segnalare solamente possibili disagi in FIPILI tra l'Astra Sign e Ginestra Fiorentina a causa di un restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola si ricorda che a causa di lavori al muro di contenimento al chilometro 89-970 è in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato in località Anchetta nel comune di Fiesole. Viabilità della città di Firenze a causa di un incidente restringimento di carreggiata e rallentamenti in piazza della stazione via Lamanni. Possibili disagi invece in via Pistoiese. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!